Come si sta organizzando il Comune di Lecce per il censimento permanente della popolazione? Il Comune di Lecce è pronto, abbiamo affrontato con grande coraggio già lo scorso censimento, che è un censimento più massivo, abbiamo un ufficio strutturato, coordinato dottoressa Catanese, siamo pronti ad affrontare questo censimento, siamo già nella fase di definizione del personale che codiverà il nostro ufficio e poi degli operatori che andranno a fare il censimento direttamente con la cittadinanza. Avete riscontrato particolari criticità? Non ci sono particolari criticità, tranne la normale diffidenza che ha oggi la cittadinanza nei confronti della pubblica amministrazione, ma stiamo cercando di stabilire un rapporto di fiducia. Grazie a tutti.